ma che barba da barbone anche la sera non so mica male e allora come va ragazzuoli tutto bene siete caldi siete pronti a fare che cosa sono sempre più stupito della gente che gira sul tubo la vita va avanti ragazzuoli non è che uno può pensare lì a tutte ste balle che ti vengono a dire e io poi ho le spalle là che me ne frego una volta me la prendevo male ve lo ricordate perché quando vivi in mezzo alla strada diventi più duro e adesso vado a farmi un girettino in un centro commerciale a 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 mi devo comprare il Tos a Capre per la barba ciao, buona giornata ciao